La Vitto ogni volta che ha in mano quel giocattolino e parte la musica fa male a Fetez. Dovrei fare after party? Sì. After party e cosa fai? Che ora torni? Sì. Domani. Domani torni? Fai proprio after vero? E domani sarai in hangover amore. Fai con la mamma a queste parti. Con la mamma. E domani hangover? Sì. Ah, domani hangover. Leone va a cena fuori insieme a mamma Chiara e i suoi parenti. un po' di controllo. E t'oknò. E t'oknò no. E t'o qui s'è? E t'o qui a boi un po' di più? Fai proprio after.